queste sono le mie cassette di irrigazione che mi permettono di irrigare le piantine direttamente dal fondo in una vasca liquido che io ci metto al fattigli zante sarà un sistema assurdo però in questo caso io addirittura metto insieme in sale le cibi di rapa ma perché c'ho poco spazio e voglio che vengono belle questo è il mio solanum già diventato grande ecco le sorelle già trapiantate nel secondo nel primo step del secondo vasetto vediamo bene